Benvenuti in un nuovo video e benvenuti ragazzi per l'appuntamento mensile con Degustabox Noi siamo quasi delattamente da maniche lunghe e a giro nel gesto di questa tipologia Ovviamente siamo qui con la box di giugno Giugno sì Prima di iniziare volevo dirvi che io non collaboro con Degustabox Ma giù nel link box vi lascio un link Che se volete ricevere la box a 10 euro invece di pagarla a 16 euro Utilizzate il link che trovate giù nell'info box Automaticamente nel momento in cui voi fate l'ordine anche voi riceverete lo stesso link Da dare ad amici o parenti a chi volete E così che ogni persona che acquista tramite voi Accumulate 50 punti e l'altra persona la pagherà scontata Quindi direi di iniziare pagantissimo Mamma mia Vedete la verità che questo mese è arrivato super super lentissimo 21 oggi è 21 giugno Ok io apro Non abbiamo visto spoiler di questo mese Io non ho visto nessuna storia Di solito noi iniziamo prima perché è arrivata prima Di solito ci arrivava sempre tardi Secondo me poi acquistando sempre Vabbè comunque ogni volta stiamo così ogni mese Non vedete Oh l'ansia e la paura Ok Allora il prodotto del mese Mi ha messo sempre ben imballata Sempre col bolino Però raga non ve la faccio dire andate a vedere il primo episodio Perché altrimenti qua spoiler Ok Vai Come sempre Pestiamo Ok Togliamo tutti i biglietti Mettila Comunque raga mi avete troppo incuriosito sulla selection Eh io l'avevo detto Forse chissà prossimo mese doppio appuntamento Vediamo 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 Anche perché poi sarà luglio Oh eccola No De gusto pops cold Fredda quindi Vado? Pronti Vai Calvè Ketchup Abbiamo entrato Restate fino alla fine Speriamo che riuscirà Il nostro Come si dice? Ah eh Come si dice? Non lo so Vabbè Allora Calvè Ketchup 100% pomodori italiani I suoi ingredienti naturali 100% bottiglia riciclabile Adoro Ovviamente anche vegan Ketchup Normal Eccolo qui È un ketchup Riuscirò a fare la 24 ore Chi lo sa Vai Pesca Scissors Tutteghe Uh Blue corn Patas No Tortiglia Vedi Blue corn Nessuno Di pannocchi Di pannocchi blu Allora Tortiglia Chips Di mais Blue Mais Blue Ma Ok Vintage Nuts And Snack Ok Ma non vedo l'ora Eccola Qui Ovviamente ci saranno Anche tantissime novità Quindi anche questo È il bello Proprio Di questa Bossa Blu Ovviamente Puoi rivedere Nel dettaglio Speriamo In una 24 ore Prossimo Uno Couscous È molto A primo impatto Posso dire Tutta tipo bio È legata un po' Cosa costume È proprio il tema Della degustabox Del mese di bing Questo è senza glutine Molino Filippini Couscous 100% Grano serracino Senza glutine Grutine Grutine Pronto in 5 minuti Fonte di fibre Prova la ricetta Sopera Retro Ok ragazzi Vuol dire che fai un po' Per la ricetta Che lo dice lui No vabbè Adoro Bellissimo Eccolo qua Solo se lo fa Così lo ne sta 3 euro E poi dopo leggeremo Tutti i prezzi Ciccola No Natavod che è la cosa brutta Raga Non dovete perdere Tutti gli appuntamenti Degustabox Mela Succo di mela Succo limpido Di mela 100% Achillea Achillea Parabili Le analitiche Eccolo qua Ovviamente anche questo Biologico Made in Italy I succhi di frutti Contagono solo gli zucchi Presenti della frutta 200 ml No No Dai Tu vediamo Uhuh Eridiana 1889 Truia Il dolcificante Della foglie di strevia Mai provato 40 bustine No Ah Solo le bustine Solo le bustine E sapete anche Che cosa amo Di Degustabox Che ogni fine mese Ogni volta che voi Riceviate Come ricevete La Degustabox Vi fa compilare un questionario E così anche da scoprire Un po' i vostri gusti E mi sembra che In un questionario precedente Io ho compilato un modulo E c'era anche Chiedeva Che tipo di dolcificante Utilizzi No ma loro Tu quando ti registri Ti chiedono Sì bravo Se vi sbaglio proprio lì Se vivi in famiglia Comunque adoro Bello Adesso ho anche da portare in giro Ho pensato un po' anche Che ne so Per il mare ci stanno Alcumibar Che ci sta Eccolo qui No raga Quante bustine 40 Zero calorie Ok Io ho fatto due spoiler Con l'occhio Non pensavo No io no No la prendo qui No la prendo qui Come anni Mese Sta po' Birra Non l'abbiamo ancora provato No ma è scomparsa Scomparsa E' la birra No ma questo forse è l'aceto È l'aceto L'aceto Aceto Balsamico di Modena IGP Mazzetti Ma hai visto Anche questa è la confezione Non che adoro l'aceto Aceto balsamico Eccolo qua 250 ml sono Mamma mia Ok Ciao Sono fosse la birra Vabbè io pesco già una cosa Che già ho visto Esta tè bio Tè verde E ho provato anche gli altri Non ci troviamo Facciamo dei Brava Questi mi ero spoilerata Tè nero e limone Adoro Ne proviamo con gli altri Sì raga Andate a vedere Comunque ve li facciamo vedere Insieme Tè verde e tè nero e limone Tè nero Ok Quindi io devo postare La mente sempre Tutto Troppo bello Ma la confezione Pastificio G Di Martino Dolce Gabbana E' la collaborazione E' la collaborazione E' bella Questa Per dire ce la vincere E' la massima Non lo so Però non so se sono integrali C'è Mamma mia È particolarissimo I vermicelli Vabbè la faccio vedere nel dettaglio Pasta di Gragnano Pasta di Gragnano EGP Trafilata a bronzo Adoriamo Ma non faccio la cosa Mamma mia Ma che spettacolo Vabbè raga ma che spettacolo Hai visto C'è una cosa schiattata Oreo mini Non si va a vedere No No vabbè Sono quattro bello All'interno c'è Sono quattro piccoli No vabbè Adoro Oreo mini Comunque Oreo mini Per sentirsi Miene colpa Oh Ci sono Soprani I prodotti Qua Che sono Uh Questi L'abbiamo trovati Nel calendario Degusta Ah sì sì Ma ti mangi sto cuore Dall'inquaggiatura Comunque Lenticchie di zucca Miacchiano Ceci Semi No Lenticchie Zucca Ceci Semi Mirtilli Rossi No Allora Ceci Lenticchie Con Semi Di zucca Mirtilli Rossi Concentrazione Pro Fonte di rame Pro Concentrazione Pro Sono raga Adoro Sono buoni Me la pedo Ecco Mi elimina Ok Ok Vai Pesca Però non stia finendo già perché altrimenti piango Voi, vuoi, vuoi, vuota qua Altri Che sono Ceci E damame Semi Di zucca E di girasole Nella pedo Nel quale faccio il giro Damame Non abbiamo provato Sì L'hanno servendo No Tu sì No Eccolo Mamma L'amera La drogheria 1880 Con Macinello Sale Integrale Zenzero Eccolo 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 Ad osare a crudo Su un carpaccio Di filetto E zucchine Oppure su pesce Bollito Alla Griglia Vabbè Norma Ok Ok Pesca Comunque Si sente Chi fa L'albo Con Le luci Stiamo Soprendo Penso Che Sono crostini Schiacciatine Insieme Di girasole Che mi è caduto No Non so Vedi qua Però alla fine Sono crostini Cioè tipo Crissini Eccolo 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 Comunque Ne ho 24 Le tablacce Si Ma io con le patatine Mi schierano un sacco Ok Pesco Vai Ultimo Di saluti Io non ho mai mangiato Di buoni Manco io Di buona crema Buon dito Se vuoi questo è pronto il mese Nuova ricetta Integrale Farina 100% Integrale Per la mutta Questi secondo me sono buoni Questi secondo me sono proprio buoni Li vedo belli morbidi Non lo so Mi ispirano un sacco Mamma mia Si dai là Ci saranno 24 ore Ok Vedi un po' Se c'è qualcosa No No E' finito Dai Ok Nel mese Vai Allora qual è il prodotto del mese Non c'è un prodotto del mese No veramente Non c'è un prodotto del mese Non lo sicuri? Ok vai Allora Couscous 1,99 euro Ketchup della Valvè 1,49 euro Mini oreo Oreo Mini oreo Mini oreo 169 1,69 euro L'estatè 90 centesimi A bottiglia Pastificio di Martino 1,20 euro Poi abbiamo quelle patatine di chips di mais blu 1,50 euro Il sale e zenzero 2,29 euro Bondi moto integrali 2,45 euro La truvia Sarebbe dolcificante 3,25 euro Non so tanto Aceto balsamico 4,95 euro Gli snack Pedon 99 centesimi A busina I crissini 1,50 euro E il succo di mela 1,99 euro Ok Devo dire Sì Secondo me il prodotto del mese è buono di molta Sì però posso fare un confronto Tra tutte Questa è stata quella più povera Sì Per essere stata più ricca economicamente Perché di solito Ma è dell'angelica No Penso di sì Sì ma c'è qualcosa qua dentro C'è anche una tisana Depurazione quotidiana C'è pure un conto di sconto da usare sull'angreca Sì 20% Sulla categoria di sale e preppe Poi vedi ti spiega pure come utilizzare i prodotti Vedi Come usare l'aceto balsamico Anche questo Guarda che bella questa cartolina 15% di sconto utilizzate su un euro bello Bella veramente Considerazione di questa box di giugno Allora Più bella è la precedente Sicuramente Anche Però ci sono prodotti comunque di punta Vabbè ci stanno le novità Cioè ci stanno Cioè diciamo che questa box più solo la quantità Si è brutta Spera alla fine Proprio sulla qualità Sì Perché avevano tanti prodotti C'è la colazione Il pranzo La merenda Comunque Sì no È sempre ben bilanciata Sì Non c'è birra Non c'è sughi Non ci sono sughi pronti No però lo sai che hanno fatto Invece di metterti in su Potremmo messo il ketchup che è 100% pomodoro Sì Quindi bene o male potresti Potrei Leare Con gli spaghetti Va bene Ok lo scopriremo nel mese Nella Mamma mia In questa settimana Lo scoprirete in questa settimana Cosa avrò combinato con questa box E cosa avrò combinato Nella channel edge Andiamo a richiedere già la box per l'unico E forse anche la selection Non sarà proprio la selection Ma quella Questa è qua cold Perché poi penso abbia proprio un sistema refrigerante Sì Ok Quindi ragazzi Dobbiamo assolutamente provarla Troppo contenta Speriamo che questo video vi sia piaciuto E ne ci vediamo nel prossimo video Ciao